lesioni e rapina un arresto a san cataldo nostra signora dei sette dolori massiccia partecipazione di fedeli alla processione di sabato coppa nissena vince e simone fagioli al secondo posto diego de gasperi al terzo francesco conticelli ben trovati lesioni e rapina un uomo è stato arrestato dai carabinieri a san cataldo si sono accorti che il loro amico aveva quasi mille euro nel portafoglio e secondo l'accusa hanno pensato di accaparrarsi di quel bottino picchiandolo con una mazza incuranti non solo dell'amicizia ma anche del fatto che quei soldi la vittima li aveva ritirati in quanto pensione di accompagnamento del figlio che soffre di una serie a disabilità e adesso per questa vicenda è finito il manetto il san cataldese giovanni piazza 52 anni mentre il secondo presunto autore della rapina è ancora irreperibile entrambi sono accusati di rapina aggravata e lesioni a piazza sono stati applicati gli arresti domiciliari mentre per il secondo è stato disposto il carcere in attesa che venga rintracciato in base al racconto fornito dalla persona offesa ai carabinieri i tre si erano prima fermati a bere qualcosa in un bar di san cataldo e poi erano saliti in auto per dirigersi a canicattì nel corso del tragitto l'uomo alla guida aveva arrestato la vettura mentre percorrevano la statale 640 caltanissetta grigento all'altezza della zona di favarella dove sorgeva il bullying italia il conducente sempre secondo la ricostruzione accusatoria aveva preso dal cofano una mazza e poi sia lui che piazza avevano iniziato a colpire l'amico sferrandogli anche dei pugni a quel punto sempre secondo l'accusa piazza aveva sfilato il portafoglio alla persona offesa prendendo i 980 euro custoditi all'interno per i colpi ricevuti la vittima ha subito traumi e contusioni alla testa e anche agli arti poi i rapinatori avevano anche riaccompagnato l'uomo a san cataldo nella zona dove aveva lasciato la propria auto e questi si era subito recato alla caserma dei carabinieri per presentare denuncia e a caltanissetta una tentata rapina in via cavur indaga la polizia un negozio di articoli di abbigliamento di via cavur è stato preso di mira da due rapinatori nella serata di domenica i quali sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale e utilizzando una pistola hanno intimato i proprietari di origine cinese di consegnare loro l'incasso solo che i commercianti non si sono persi d'animo e hanno iniziato a chiedere aiuto uscendo anche in strada per cercare di richiamare l'attenzione dei passanti e degli abitanti della zona vista l'inattesa reazione temendo di essere beccati in flagrante i due rapinatori se la sono data a gambe nel frattempo era stato chiamato il 112 sul posto era arrivata una volante della polizia gli agenti stanno adesso indagando per rintracciare i responsabili da capire se nella zona siano presenti telecamere di sorveglianza che potrebbero avere registrato delle immagini in modo da rendere più agevole l'identificazione dei due rapinatori rave party a mazzarino intervento della polizia circa 70 gli agenti impiegati nello sgombero bloccato prima ancora che avesse inizio un rave party che era stato organizzato naturalmente in maniera abusiva nelle campagne di mazzarino il tutto grazie a un blitz dei poliziotti della squadra mobile di caltanissetta e dei colleghi del commissariato di niscemi i quali avevano scoperto l'organizzazione dell'evento grazie ai controlli continui dei social network visto che eventi abusivi di questo genere vengono messi su grazie a un continuo passaparola sul web centinaia le persone pronte ad assistere al rave che aveva come sede un'area di contrada rafforosso in prossimità della diga cimia come detto nelle campagne del territorio di mazzarino i poliziotti sono però arrivati prontamente ed hanno sorprese di identificato oltre 70 di loro che erano arrivati sul posto utilizzando camper e altri mezzi non solo siciliani tra i presenti ma anche altra gente proveniente da fuori dell'isola soprattutto da liguria e piemonte almeno altre 100 persone stavano arrivando in auto ma sono state bloccate dai poliziotti che avevano circondato la zona per evitare nuovi accessi all'area nel ruogo del rave era già stato allestito un palco con un erano state preparate numerose tende in tutta l'area circostante le operazioni di sgombero sono state disposte immediatamente dal questore il prefetto ha seguito costantemente l'evolversi della situazione circa 70 i poliziotti impiegati 40 della questura e 30 dei reparti mobili oltre a pattuglie numerosi militari dell'arma dei carabinieri della guardia di finanza componenti dell'unità dell'ispettorato ripartimentale delle foreste e personale dei vigili del fuoco per garantire le fasi delle operazioni di identificazione sgombero tutta l'area è stata circondata e presidiata e sono state bloccate con l'intervento della polizia stradale dei carabinieri le vie di accesso circostanti grazie anche all'allestimento di posti di controllo in tutte le strade provinciali e statali che conducevano al sito intervenuta anche la polizia stradale di palermo i poliziotti delle questure delle province limitrofe intervenuto anche un elicottero della polizia di stato del quarto reparto volo di palermo per la vigilanza aerea del luogo molti degli identificati avevano già partecipato ad altri rave party abusivi in diverse regioni del territorio nazionale lo sgombero dell'area si è svolto tranquillamente verso la fiera di san michele all'ex foro boario anche le giostre da lunedì 26 a domenica 2 ottobre la fiera di san michele si svolgerà all'ex foro boario insieme alle giostre si arriva dunque ad una genificazione dei siti rispetto a pian del lago che era stato il luogo indicato inizialmente per le bancarelle una decisione frutto di un lavoro congiunto tra comune associazioni di categoria a seguito di opportune verifiche sopra luoghi e chiesto anche il parere della commissione pubblici spettacoli ci fanno sapere dall'amministrazione sarebbero stati infatti gli stessi operatori ad avanzare la richiesta in tal senso così come ci ha raccontato anche uno dei sindacalisti accogliendo positivamente la disponibilità mostrata da parte dell'amministrazione adesso dunque i circa 18 mila metri quadrati dell'area saranno a disposizione degli operatori sia per le giostre che per le bancarelle nel bando si prevedevano per la fiera 132 posti suddivisi tra le varie aree cioè due per le aziende dedicate ai servizi istituzionali 10 per la produzione filiera corta alimentare a chilometro zero due aree eco energie rinnovabili tre all'artigianato uno per la promozione sport e tempo libero due no profit sette obbisti 20 per l'area food e il resto per l'area libera commerciale secondo le gradatorie provvisorie pubblicate all'albopraettorio del comune sarebbero circa un centinaio le richieste presentate in questi giorni è stata pubblicata anche l'ordinanza della direzione quinta polizia municipale ced affari legali e contratti che disciplina per quel periodo il traffico veicolare nelle strade interessate ed in particolare dalle ore 15 del 25 settembre alle ore 7 del 3 ottobre 2022 viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati in via gibil gabib tratto di strada compreso tra la via verna e l'intersezione con contrada santa lucia nella stradella di accesso al foro boario tratto compreso tra la via gibil gabib e l'ingresso principale del foro boario divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro in via gibil gabib tratto compreso tra l'intersezione di contrada santa lucia fino al palo luce contrassegnato con numero 6305 e comunque fino all'intersezione con la contrada caldera rovalle e ancora nella strada di collegamento tra la via gibil gabib e la via dell'imprenditore divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati in via dell'imprenditore tratto di strada compreso tra il civico 53 e la via libero grassi nonché nella strada parallela alla via dell'imprenditore nel tratto indicato da apposita segnaletica verticale mobile senso unico di marcia in via gibil gabib tra l'intersezione di contrada santa lucia la strada di collegamento tra la via gibil gabib e la via dell'imprenditore nella stessa strada e in via libero grassi da via peppino impastato a via dell'imprenditore in via dell'imprenditore tratto di strada compreso tra la strada di collegamento tra la via gibil gabib e la via peppino impastato sospesa la circolazione veicolare tranne per gli operatori commerciali in via dell'imprenditore tratto di strada compreso tra il civico 53 e la strada di collegamento tra la via Gibil Gabib e la via dell'imprenditore, nella stradella di accesso al Foro Boario, tratto compreso tra la via Gibil Gabib e l'ingresso principale del Foro Boario. Infine vengono istituiti sei stalli di sosta riservati a persone con disabilità nello slargo compreso tra via Gibil Gabib e la strada di ingresso principale al Foro Boario. La fiera durerà circa una settimana, dal 26 settembre al 2 ottobre. Covid, 7 positivi nel Nisseno, 3 a Caltanissetta, 2 a Gela. E di 8.259 nuovi contagi il bilanzio nazionale di pazienti risultati positivi al Covid, di cui 472 in Sicilia, secondo il bollettino rilasciato poche ore fa dal Ministero della Salute. L'ultimo aggiornamento di oggi pomeriggio nel territorio Nisseno parla di sette persone positive al SARS-CoV-2, tutte in isolamento domiciliare. Tre sono di Caltanissetta, due di Gela, una di Santa Caterina e una di Mussomeli. ricoverato in degenza ordinaria, un paziente proveniente da fuori provincia. Quattro i guariti, tre sono di Caltanissetta e uno di Mazzarino. Nostra Signora dei Sette Dolori, massiccia partecipazione di fedeli alla processione di sabato. Un cuore con sette piccoli pugnali e questo è il simbolo dell'Associazione Devoti Nostra Signora dei Sette Dolori. La stessa immagine impressa nei medaglioni che portavano al collo i suoi componenti, che hanno accompagnato il simulacro della Madonna sabato 17 settembre, durante la processione lungo la via Ferdinando I. L'Associazione infatti, insieme alla parrocchia di San Marco Evangelista, si occupa della festa che viene celebrata in parrocchia, nuovamente dopo la pausa a causa della situazione sanitaria degli ultimi anni, con un corteo seguito da numerosi fedeli. Sono stati due anni bloccati, è stato veramente un dolore. Oggi finalmente riportiamo Maria per le strade del nostro quartiere e speriamo che questo serva anche a scuotere un pochino la gente che ha paura e ancora non vuole uscire. Però noi ci stiamo provando, ce la mettiamo tutta, la Madonna sicuramente sa cosa fare, sa come richiamare i suoi figli in parrocchia e nell'amore vicendevole tra i fratelli. Una devozione che è cresciuta sempre più negli anni in parrocchia. Questa devozione è nata 16 anni fa a Siviglia e abbiamo iniziato con un gemellaggio con la Real Maestranza nel 2005 a Siviglia con la Madonna del Rosario. Da lì ci siamo praticamente quelli che eravamo presenti, eravamo 18, ci siamo innamorate delle statue che sono in Spagna perché veramente ti aprono il cuore. E quindi abbiamo deciso di acquistare una statua della Madonna. Non abbiamo chiesto niente a nessuno, ci siamo autotassati e poi sono intervenuti altri soci. Siamo in tutto 32 soci fondatori che però poi si sono aggiunti, quelli della parrocchia, perché qua molti si sono iscritti nella parrocchia San Marco e anche fuori parrocchia, devo dire. È un'associazione che come obiettivo ha soltanto la preghiera e la carità. La preghiera la facciamo nel nostro piccolo senza tanti fronzoli, diciamo, nella semplicità di un rosario, il venerdì pomeriggio c'è il Rosario dei Sette Dolori. E una volta al mese ci riuniamo, la nostra guida spirituale è Padre Antonio, e cerchiamo di andare avanti con la formazione spirituale perché è importante, perché non è che a Caltanissetta avevamo bisogno di una statua in più per pregare. Il nostro obiettivo era proprio stimolare la gente a crescere spiritualmente. E piano piano, piano piano ci stiamo riuscendo. Il ballo del barone Lanzirotti nel centro storico di Caltanissetta, iniziativa preceduta da un corteo. Hanno riportato il centro storico nella seconda metà dell'Ottocento i circa 40 figuranti che hanno partecipato al ballo del barone Lanzirotti, preceduto da un corteo in costumi storici del 1850, con la deposizione di una corona d'alloro davanti al busto del tripiciano. Una grande attenzione d'Italia ha permesso di far rivivere per una sera. Gli esponenti della nobiltà di quel periodo, grazie alle gonne voluminose con più strati di tessuto, gli abiti decorati da frange, pizzi, ricami, nastri, gli ombrelli e i capelli raccolti nelle acconciature di un tempo per le donne, i guanti, gilet, soprabbiti, cappello e bastone, le divise per gli uomini. Abbiamo cercato di ricostruire il costume della baronessa, che ora poi fra poco vedete, proprio un bo, diciamo, sia dalle sculture del tripiciano e da qualche informazione, diciamo, abbiamo cercato di dare una parte storica vera del costume. Le musiche del ballo dal latro del comune riecheggiavano fino in corso Umberto I, attirando la curiosità dei nisseni e non solo, presenti in centro. L'associazione Arte e Tendenza, che ha organizzato l'evento, abbracciato anche dal comune di Caltanissetta, ha ricreato l'atmosfera del periodo tra danze storiche e intrattenimento. Per gli ospiti del barone Lanzirotti e la moglie, la baronessa Angelina Giordano, sono stati proprio loro, infatti, ad accogliere i partecipanti e ad aprire le danze. L'importanza è fare conoscere alla città di Caltanissetta, ai nisseni, che abbiamo avuto delle figure così importanti nell'Ottocento, che hanno fatto tanto per Caltanissetta, e tra cui questa figura del barone Guglielmo Luigi Lanzirotti, che fu anche sindaco della città e che fu il mecenate dello scultore Michele Cepiciano. La nobiltà dell'epoca organizzava questi balli proprio per intrattenere i nobili della città e la conoscenza fra le famiglie. E così potevano avvenire anche dei matrimoni, quindi diciamo anche lo scopo era pure questo. L'evento rientra inoltre tra le iniziative parallele e fuori binari del fitto programma di appuntamenti del Festival Culturale della Città Miniera Sonde d'Arte. La giornata del Naso Rosso a Caltanissetta tra giochi e divertimento. Una giornata all'insegna del sorriso e dell'allegria, l'entusiasmo dei volontari di Viviamo in Positivo, Caltanissetta ODB ha regalato ai bambini presenti domenica 18 settembre nei momenti di grande divertimento, insieme anche alle loro famiglie. I più piccoli sono stati coinvolti in giochi organizzati per loro, palloncini colorati a forma di spado di cagnolino, bolle di sapone, volti colorati grazie al trucco per bambini, un flash mob e tanta magia. Anche a Caltanissetta, infatti, è stata celebrata la giornata del Naso Rosso giunta alla diciottesima edizione. Questa giornata è proprio mirata per questo, per arrivare alla sensibilità delle persone e far conoscere alla gente la nostra associazione, soprattutto in quale cambi lavoriamo, perché molto spesso ci individuano come dei clown da festa, invece noi siamo clown di corsia. Andiamo negli ospedali e laddove comunque c'è bisogno di un sorriso, quindi case di riposo, case per minori a rischio e naturalmente ovunque c'è bisogno di un momento di spensieratezza. Generalmente il beneficio che noi triniamo dalla persona è proprio riuscire a spostarli da quei pensieri quotidiani che sono comunque la malattia in quel caso e quindi noi cerchiamo di distogliere l'attenzione su quel focus in modo da comunque liberare per un lasso di tempo minimo, perché comunque il nostro è un intervento che dura una giornata, noi andiamo negli ospedali la domenica pomeriggio, però in quel momento noi cerchiamo di alleviare più che altro la sofferenza e portare, come ho già detto, un momento di spensieratezza e di leggerezza. Con i loro nasi rossi e i camici colorati, con dei tratti ben identificabili entrano nelle strutture ospedaliere non solo per portare momenti di positività, un'attività che richiede sempre il supporto di nuovi volontari. C'è bisogno sempre di nuovi volontari perché così noi riusciamo ad ampliare i nostri servizi. Noi manteniamo lo standard di servizi domenicalmente negli ospedali, ma noi andiamo anche nelle case di riposo e nelle case per minori a rischio e in questo caso abbiamo bisogno di più volontari in modo che avviene la turnazione e il volontariato diventa un momento di leggerezza non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo effettua. La pagina sportiva Coppa Nissena vince Simone Fagioli. Al secondo posto Diego De Gasperi, terzo Francesco Conticelli. Il fiorentino Simone Fagioli ha vinto la 67esima edizione della Coppa Nissena, che quest'anno celebrava il suo centenario, ottenendo il miglior tempo in entrambe le scalate. Il 16 volte campione italiano su Norma M20 FC porta a nove le sue vittorie alla gara siciliana nell'edizione del centenario, alzando il trofeo Michele Tornatore, consegnato dal presidente AGI, Angelo Sticchi Damiani. Attimi di panico si sono vissuti quando una delle vetture in gara ha preso fuoco mentre percorreva il rettilineo di Sabucina. Il pilota è riuscito ad abbandonare rapidamente l'abitacolo, evitando conseguenze gravi grazie agli equipaggiamenti ignifughi. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Il mezzo è poi stato riportato nel paddo, che la gara è stata sospesa per circa 20 minuti. Secondo sul podio, il trentino della V Motorsport Diego De Gasperi, che suosella FA30 Zitec ha rimontato caparbiamente in gara 2, assicurandosi il secondo posto tricolore assoluto dopo il titolo E2SS. Terzo il trapanese Francesco Conticelli, nuovamente in posizione alta sulla nuova Proto NP012. Primo pilota di casa, Salvatore Miciche, che suosella PA21 ha bissato il successo in gruppo CN della scorsa settimana ad Erice. All'esordio in salita, il giovanissimo Andrea Di Caro si è guadagnato il Memorial Luigi Campione, è stato secondo tra i locali ed il più giovane meglio classificato, trovando intesa immediata con la nuova Proto motorizzata Aprilia, con cui è dominato la classifica delle sport car motori-moto. Sotto al podio, prova di carattere per il ragusano Franco Caruso sulla nuova Proto NP012. Tra i primi cinque, il calabrese Luca Ligato, al volante dello Sella PA2000, sesto l'etneo Luca Caruso su Norma M20 FC Honda, seguito dal pilota di Comiso, Samuele Cassibba, su nuova Proto Synergy 2000 V8. Combattutissimo il gruppo E1, dove il migliore della classifica aggregata è risultato l'etneo Pietro Ragusa su R5 GT Turbo, davanti all'altro catanese Rosario Alessi su Peugeot 106.600, e a Roberto Lombardo al volante di una Peugeot 207-2000. In gruppo A, vittoria del calabrese, dirrende Gabri Driver, con la Renault Clio 2000, con cui si è assicurato la coppa tricolore delle due litri. Nella RS Cup, vittoria del poliziotto salernitano Gianni Loffredo, che al volante di una Peugeot 308 TCR1, ha messo in fila il locale Carlo Fabrizio Larocca, sui Hyundai i30, e Salvatore Castronovo, che comunque ha chiuso al primo posto nella categoria delle aspirate, in un terzetto di Renault Clio, davanti ad Antonio Castronovo, e dal messinese Antonino Torre. Calcio Serie D San Cataldese, esordio amaro al Valentino Mazzola. Passa il Sant'Agata. Comincia male la nuova avventura della San Cataldese nel campionato di Serie D Girone I. Al Valentino Mazzola passa il Sant'Agata, con una vittoria di misura. In vantaggio con Maltese nel primo tempo, la squadra di Matteo Vullo non riesce a mantenere il controllo della partita, subendo il gol del pari di Vitale. L'1-1 galvanizza gli ospiti, che cercano e trovano il gol della vittoria con Calafiore. Un'involuzione per i Verdi Amaranto, almeno sul piano dei risultati, che arriva dopo il pesante 0-5 in Coppa Italia con il Paternò. Sembra lontano adesso l'esaltante vittoria sul Catania ai calci di rigore, al debutto stagionale di Coppa il 21 agosto scorso. Il tecnico della San Cataldese è Matteo Vullo sulla pagina Facebook Verdi Amaranto. Noi abbiamo, secondo me, fatto una buona partita. Quello che non ci premia è il risultato. Noi non meritiamo di perdere questa partita, dal mio punto di vista. Poi, se qualcuno dice altro, va bene lo stesso. Loro saranno felicissimi di averla vinta, avrebbero preferito vincerla anch'io in maniera così. Ma purtroppo i nostri due gol reali vengono da due situazioni di un errore individuale. La verità dei fatti è che noi non possiamo prendere gol a 30 secondi alla fine, che sarebbe stata tutta un altro secondo tempo. Però a questi secondi non si fa niente. Noi dobbiamo semplicemente imparare da quello che succede e migliorare. Adesso l'obiettivo nostro è guardare, con fiducia, alla partita di mercoledì prossima a Cittanova e cercare di andare lì a fare risultato. Il quadro completo dei risultati Acireale-Cittanova 0-0 La Mezzia-Canicattì 1-0 Trapani-Mariglianese 0-0 Licata-Castrovillari 0-1 Santa Maria-Cilento-Locri 0-2 Ragusa-Catania 0-2 Real Aversa-Paternò 3-1 San Luca-Vibonese 0-1 San Cataldese-Sant'Agata 1-2 La classifica Real Aversa-Catania-Locri-Sant'Agata-Castrovillari La Mezzia-Vibonese 3 Acireale-Cittanova-Trapani-Mariglianese 1 San Cataldese-Canicattì-Licata-Sanluca-Paternò-Santa Maria-Cilento-Ragusa 0 Eccellenza Nissa un'altra sconfitta L'Acragas brinda al terzo successo consecutivo A quota 0 anche il Gela Superato in casa dall'Enna La Nissa incappa nella seconda sconfitta di file in campionato E si trova ancora a quota 0 Nella classifica del girone A di eccellenza Un'altra domenica amara per la compagine allenata Da Alessandro Settineri Dopo il pesante 3-0 subito a Casteldaccia Stavolta è l'Acragas a brindare al successo Il terzo consecutivo Grazie a un gol di Alfonso Cipolla Al 39esimo del secondo tempo Per gli Acragantini una vittoria che vale il primato In condominio con lo Sciacca Pure a punteggio pieno Vittorioso in trasferta I biancoscudati sono attualmente ultimi In compagnia di altre tre squadre Ma devono ancora recuperare l'incontro casalingo Con l'oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo In programma mercoledì prossimo I commenti a fine gara del presidente della Nissa Sergio Iacona E dell'ex biancoscudato Desiderio Garufo Sulla pagina Facebook dell'Acragas Il risultato ci lascia l'amaro in bocca Però devo dire che sapevamo di giocare contro una squadra Sicuramente al di sopra della Nissa Una squadra molto attrezzata Anche per la vittoria finale Che ha giustamente fatto investimenti Per programmare un futuro roseo Come io auguro all'Acragas Per me è stata una grande emozione tornare qua Dopo più di 30 anni Perché da ragazzo ho vissuto tanti invocati derby Tra la Nissa e l'Acragas E quindi per il resto ho assistito comunque a una bella partita Combattuta dove sono soddisfatto del fatto che la Nissa Ha tenuto e oserei dire che ha perso comunque per un episodio Anche se abbiamo ben coscienza di quelli che erano i valori in campo Poco prima di prendere il gol Sia pure in contropiede Abbiamo avuto un'ottima occasione Direi sprecata Così come nel primo tempo C'è stato un colpo di testa pericolosissimo Ma era il nostro compito questo Quello di aspettare l'Acragas Di stare un po' coperti Perché eravamo, ripeto, consapevoli Della superiorità tecnica dell'Acragas Quindi la differenza è anche un pizzico di fortuna Però ci sta nel calcio assolutamente Quindi tanti auguri all'Acragas Sì, è una vittoria voluta Una vittoria voluta Perché queste partite Poi se non riesci a sbloccarle nel primo tempo Dove abbiamo fatto una grande mole di gioco Che non abbiamo mai concesso niente all'avversario Sia nel primo e nel secondo tempo A volte rischia anche di perderne Magari in contropiede Una palla inattiva Siamo stati bravi a non concedere niente Ci riconfermiamo miglior difesa E quindi diamo prestigio a questa vittoria Perché le partite non saranno tutte 5-2, 4-0, 3-0 Sono partite che più tempo passa Più l'avversario ti studia E quindi sarà sempre più difficile per noi Però abbiamo riconfermato la fame che ha questa squadra Io, oltre alla prestazione mia Che è sempre collegata a una prestazione di gruppo Quindi una grande prestazione da parte di tutti Da parte di chi è entrato E questo è frutto del lavoro settimanale Perché ci sono ragazzi che sono andati in tribuna Che durante la settimana danno sempre il 100% Quindi merito di tutti La classifica Intanto la Lega Sicula ha ufficializzato gli incontri Del secondo turno di Coppa Italia Nissa e Acragas torneranno a incontrarsi presto Mercoledì 28 e il 12 ottobre Gara di ritorno all'Esseneto di Agrigento Le altre partite in programma Resuttana Parmonval Mazzarese Sciacca Vincente tra Enna e Leonfortese Don Carlo Misilmeri Comiso Vincente tra Modica e Santa Croce Taormina Leonzio Rocca Acquedolcese Nuova Igea Palazzolo Siracusa È tutto Vi lascio al meteo E alle informazioni di pubblica utilità Grazie per l'attenzione Appuntamento rinnovato Alle prossime edizioni Amici Trevi Meteo Bentornati a questo aggiornamento Dei nostri previsioni Per la giornata di martedì Che nel complesso sarà bella in Italia Alta pressione sul Mediterraneo E sul nostro paese Correnti fredde però in arrivo dal nord Europa Continuano a lambire il nostro paese Controlliamo la nuvolosità Attene a sud Italia Ben pochi nubi Qualche annuvolamento al mattino All'estremo sud Per adesso insomma Come vedete ci la caviamo E in effetti anche come precipitazioni Nulla da segnalare Non sono attese piogge significative Questo martedì da nessuna parte Quindi insomma in definitiva Ci attende un martedì di sole Sole bene o male in tutta Italia Qualche annuvolamento al sud Ecco magari al mattino Qualche breve piovasco potrà interessare La Puglia Garganica Unica zona Per il resto ripeto Tempo bello Temperature diurne Fino a 25-26 gradi Quindi di giorno Si sta anche abbastanza bene Però di notte A primo mattino Temperature contenute Ce ne siamo accorti Sotto i 15 gradi In alcune zone Vicine anche ai 10 Per tutti i tagli Comunque sulle vostre località Consultate l'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Romano Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno Eufrate Viale Stefano Candura Corso Vittorio Emanuele